Ecco qui le due loop station messe vicine. Sembrano simili ma non lo sono, adesso andiamo a scoprire perché. Forse se stai cercando un RC300, un RC50, stai facendo come me, cioè cercando di risparmiare qualcosina e avendo qualcosa che ti possa permettere di riprodurre delle sequenze e suonare live e fare anche del looping live. La prima loop station che guardiamo è la RC50. È chiaro che questa loop station è studiata proprio per fare del layering, cioè per utilizzare ogni frase come se fosse un layer diverso. È molto molto differente dalla RC300 secondo me e anche dalle altre loop station più moderne. Quindi per questo motivo se utilizzate più layer vi è molto utile, se la utilizzate per fare, diciamo, una strofa, ritornello e qualcos'altro, ad esempio in una canzone, ve la sconsiglio nonostante costi un po' di meno della 300 e sia, adesso vedremo quali sono le cose positive. Quindi parliamo delle cose positive. Secondo me i provi di questa loop station sono ovviamente le dimensioni perché rispetto alla 300 non ha il pedale di espressione, quindi recuperate un po' di spazio e vi dico io che viaggio spesso, riesco a infilarla in un mini trolley mentre l'altra devo prendere una valigia più grande e quindi questo è abbastanza comodo, diciamo, come cosa. Poi se va inserita dentro una pedaliera, insomma, ha il suo peso questa cosa. Il fatto che si possono registrare tre frasi, comunque, bisogna essere un po' sgamati per cambiare tra una e l'altra, però ci si riesce, insomma. Il fatto che abbia l'ingresso del microfono. E sicuramente la posizione dei pre-stop and do è molto comoda. Quali sono invece i contro di questa loop station? Allora, il fatto che non faccia l'autoplay alla fine di una sequenza ed è, secondo me, la cosa più grave di questa loop station. È un po' un problema se si suona live perché bisogna essere veramente precisi per passare da una sezione all'altra. Non ha gli effetti integrati, che poi vedremo nell'altra loop station, ad esempio, quindi anche questo è un po' una pecca, diciamo. L'unico effetto che c'è è il reverse. Quando mai avete usato il reverse nel live? Almeno io non lo uso mai. Magari voi sì, spiegatemi come, ma... E poi è un po' macchinoso, ma questo in tutte, cancellare, cioè bisogna comunque tenere schiacciato lo stop per un po' di tempo e poi viene cancellata. Anche graficamente, diciamo, bisogna un po' capirla, bisogna un po' studiarla. Quindi non sono molto soddisfatta di questa loop station. È vero che è vecchia, però voglio dire, siccome è un po' una macchina da guerra, mi aspettavo qualcosa di più, oppure che fosse un po' più customizzabile. Riescrivo un po' la RC300 invece, iniziando da le cose negative. E sicuramente le dimensioni sono veramente grandi. Il pedale di espressione sarebbe stato meglio poterlo collegare successivamente e non averlo incluso nella pedaliera. Cancellare tutto, cioè tutte le tre frasi contemporaneamente. Ci sono dei tutorial online per riuscire a impostarlo attraverso un pedale, però è una cosa un po' macchinosa da fare. E infine, è pensata più per una modalità single, cioè ogni frase mi va a costituire una parte della mia canzone. Se si fa il layering è molto comodo anche quello. Diciamo che il fatto che ci sia il play stop vicino è molto molto comodo. Rispetto all'altra loop station è molto più maneggevole e molto più intuitiva. I pro, che ci sono gli effetti molto belli all'interno. L'effetto più bello secondo me è l'octaver, che non è molto preciso, cioè non è come l'octaver pedalino della boss che è bellissimo, però comunque fa la sua bella figura, insomma. Il fatto che ci sia l'autoplay alla fine, quindi se io parto con una sequenza sulla prima frase e poi la seconda frase parte in automatico e io la posso programmare senza dover stare attenta a quando farla partire. E devo dire che se dovessi scegliere, forse mi terrei di più questa, ma ha una dimensione veramente eccessiva, non mi permette di trasportarla bene e cioè sembra un'astronave, ecco. Quindi valutate bene se volete tenervela. Infine, di entrambe le loop station, la cosa positiva secondo me è il fatto che ci si possa regolare le tracce di ingresso e di uscita autonomamente, che è una cosa molto 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 utile ed è anche abbastanza facile farlo. State attenti poi quando siete live ovviamente di ricordarvi i setup che avete fatto.